I frati Cappuccini del Convento della Madonna Rocca si affidano alla genosità e al cuore dei devoti del Venerabile Padre Gioacchino Lallumia. Perché, fra Massimiliano? Perché dopo 40 anni dalla costruzione della nuova Chiesa sono diventati necessari, quasi urgenti, degli interventi di manutenzione straordinaria. Soprattutto per quanto riguarda il tetto della Chiesa. In diversi punti piove, quindi è proprio necessario rimuovere le tegole, ripristinare diverse parti del tetto. Ma anche all'interno vorremmo dare maggiore calore e colore alla nostra Chiesa, tanto frequentata dai devoti di Padre Gioacchino. Vorremmo soprattutto abbattere questa parete all'ingresso che impedisce un po' la partecipazione più larga delle persone quando ci sono le grandi manifestazioni. Così daremmo anche più luce alla Chiesa stessa. Dovremmo riprendere un po' l'impianto elettrico, riprendere alcune parti della Chiesa dove c'è umidità che viene dalla strada. E poi togliere un po' di grigio e dare un po' di bianco dappertutto e risistemare, secondo le norme liturgiche nuove, un po' l'altare. Tutto questo naturalmente ha un costo, ha una cifra. Noi però non ci scoraggiamo perché se 40 anni fa i nostri padri hanno potuto ricostruire Chiesa e Convento totalmente affidati alla generosità dei devoti di Padre Gioacchino, noi che dobbiamo fare molto meno, sicuramente dobbiamo riuscirci alla stessa maniera. E ti ha quantificato i costi per fare Massimiliano? Sì, orientativamente ci vogliono un 100.000 euro. Io so benissimo che tante persone faranno fatica a mettere da parte 5-10 euro per questa causa, per questo restauro della Chiesa. Però so che tante altre persone potranno fare di più. Allora io faccio appello a tutti perché ci mancherebbe, per il Signore anche poco vale molto perché conta il modo con cui si dà. Però davvero chi può dia di più perché dobbiamo intervenire. Come deve fare chi volesse donare, Fra Massimiliano? Sì, intanto ognuno che vuole fare un'offerta può senz'altro avvicinare qui al convento e chiedere di noi frati. E poi in giro per la città, ma non solo a Canicattia, anche in qualche paese vicino come a Delia, a Naro, a Castrofilippo, abbiamo distribuito questi salvadenai dove c'è l'immagine di Padre Gioacchino e c'è scritto un dono per il santuario della Madonna della Rocca e Pare Gioacchino. Li abbiamo distribuiti più o meno in tutti gli esercizi commerciali di Canicattia. Quindi ognuno quando fa la spesa, quando va a prendere un caffè, quando va a comprare una maglietta, un capo di abbigliamento, quando va a comprare una rivista, ecco, metta qualcosina qui in questi salvadenai. Potrebbero darci un ricavato importante per cominciare i lavori. Così, non di meno, abbiamo distribuito il conto corrente postale dove c'è scritto nella causale del versamento pro restauro chiesa. Ma questo conto corrente lo potete richiedere benissimo qui in convento e vi sarà dato. Il numero del conto corrente postale intestato alla vicepostulazione dei Cappuccini di Canicattia è il numero 11742921. E fin da ora ringrazio tutti coloro che davvero risponderanno a questo appello. Pace e bene.